Ciao a tutti amici artisti siamo nella settima puntata di maricraft a off camera abbiamo andato a mangiare le pecore a lingua si è scoppiata un'orgia non so gay, lesbica un macello, un macello di pecore ehi vabbè in questa puntata abbiamo intenzione abbiamo intenzione di esplorare finalmente la famosa mappa della tradizione cazzo siamo lontanissimi e qua? porco giude, qui si riesce a puntare arrivare a questo e poi tipo beh trovi una cagata di pigiù si magari un osso un osso di cucina registrazione non per i coglioni ok allora maria allora in pratica vediamo come siamo questo palino questo qui nero qua nell'angolo e quindi sull'X vado a arrivare ok allora io penso che possiamo anche rimandare alla prossima puntata certo possiamo anche rimandare però che cazzo facciamo? no 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 allora possiamo iniziare a fare il portale senza andare nel nether però capito andiamo sulla prendere l'ossidiana ok posso procedere io? si e prendiamo lo stalker e lo ingroppi il cavallo il cavallo stalker gli diamo una sella e se lo selliamo lo selliamo lo frustiamo e gli diamo un po' di pone maniere ecco e una volta che si è domesticato partiamo e poi ci muri e famo per dispetto e qui e qui e partiamo per l'esplorazione ah per l'esplorazione ok quindi è una specie di obiettivo da fare certo certo c'è un esempio di obiettivi ma vai a bere il cicco cavallo se ne è più duro e si ha detto quindi possiamo là qui la mappa nuovamente ok allora e andiamo a cercare il ciuggo no no il ciuggo andiamo prima nel giuggo però tagliamo prendiamo l'ossidiana si si sempre per non farvi due palle così e ci vediamo proprio perché si con l'aggiornamento abbiamo trovato il lago di lava sta qua quindi c'è bisogno di andare in culoni ed ecco ossidiana per noi ossidiana gugu si quando ce ne serve? ah ce ne servono quanti blocchi? allora facciamo prendiamo una non una ventina di pezzi ma una ventina di pezzi non una ventina di pezzi ma una cinquantina una cinquantina è troppo pochi 20 guarda però un'unica cosa che potevamo fare potevamo fare l'ossidiana un po' meno perché se romperla e lo quello che succede quando cadiamo nella lava quando cazzo no mannaggia vabbè ma mannaggia la mannaggia ma madosca fui fui da la vabbè siamo a dire no poi ha uai e io porca miseria porca porca madonna non farmi lanciare madonna gratuita ma youtube lo vuole eh si si vuole vuole che si mi blocca ragazzo vabbè ok abbiamo preso eccoci qua finalmente dopo esserci fatti noi due palle così siamo arrivati a 17 blocchi io penso che usciranno solo dislike se mettevamo la morte sicuro ma quanti utilizzi c'è ancora vabbè 1534 utilizzi il piccolo di diamante non scherzo non scherza alla grande ma per il per il cosa che cazzo dobbiamo fare ah lo ossidiamo il cazzo no il cazzo ce l'abbiamo tutti qua sì certo qua il pacco diciamo a parte il cazzo che ce l'hanno tutti a parte chi ha dei problemi va bene ok lasciamo perdere diciamo al gioco dicevamo come si come si un goto di ferro penso sia una torta è sciuta no 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 in questa non ci pensavo ah guarda qua da tipo due blocchi di due lingotti ah vuol dire che doppio utilizzo vuoi farlo vuoi darlo sia così che così ah vediamo 1 4 ok allora ci troviamo abbiamo perché abbiamo preso 4 blocchi per questo e se le dice ce la facciamo a fare il portale quindi il portale quello che chiedevo io dobbiamo fare il portale dove lo facciamo il portale lo voglio si vuoi farlo aspetta voglio almeno voglio mettere i blocchi e tu decori la zona ma all'aspetta allora facciamo così no metti tu quello di vino è brutto da spaccare quello devi metterne tre sono qui a posto per giocare e imparare allora ok allora finalmente dobbiamo fare penso di questa non vi abbiamo io vabbè che ho fatto allo stampo lo stampo io direi se io disegno il mio canale si basa sul disegno non penso di avere così tanto bisogno stai attento a non sbagliare ecco qua vediamo uno due poi al centro si vanno tolti si aspetta basta che vai più vicino non ci riuscivo ecco qua hanno fatto io ok ma spà che blocchi centrali con la cosa si sono di fran 2000 mani a parte che per rompere di nuovo quelli ci rompe solo i coglioni ma non si rompono di nuovo e penso che infatti non è stata facile le piglia e così si rompe il piccone e così si romperà anche i blocchi ok allora ok adesso devi andare in base base di cover e ti insegno come si fa l'acciarino in modo che lo accendiamo l'acciarino per noi andiamo vai in casa e attento a non lo sai perchè quel coso ti fa prendere fuoco la casa ah non devo solo accendere sennò la picciana a casa strunti stai una picciana a casa penso che chi conosce comora può capire la battuta o almeno chi abbia mai sentito questa cosa strunti stai una picciana a casa allora adesso no no apri il baule baule grande ok prendi questa la silce qui ok poi che al ricerimento apri questo perchè ci abbiamo cose diverse qua prendi un pezzettino di ferro ok apri la crafting che sta qui sempre qua clicca qua questo è così clicca qua ok clicca qua preso praticamente già fatto mi raccomando clicca di nuovo qua in modo che possiamo dire tutte le ricerche ok ci abbiamo la cerita a non dare fuoco a niente a nessuno clicca mia con la rotellina così allora giro che do fuoco solo a cavallo se lo trovo no no è meglio di no no ammazziamo alla fine non c'è sfizio alla fine della serie ammazzeremo il cavallo sembra che se ne pensi ne è fiuto però 2 1 bam vuole andato ok primo obiettivo raggiunto ok adesso dobbiamo fare una cosa tagliamo un attimo perché dobbiamo capire come si fa il coso la base non abbiamo capito ci abbiamo capito ok allora abbiamo preso trovato le guacche le guacche abbiamo fatto la carta infatti prima la carne poi la carta infatti qua sono tutte le canne da zucchero che stanno ricrescendo perché serviranno poi per la libreria le libri le libri le libri le libri le tosse diciamo anche i poliglotti e stand attenti a quelli numeretti non ci rompe le palle possiamo iniziare a fare serve per fare il libro quante pagine ok per la copertina poi ci serve un pezzo di diamante allora se me la ricordo a mente penso che abbiamo fatto uno di qua uno di qua poi si mette uno due come cazzo si mette che cazzo ci serve no non dirmi che ci servono che è tutto al contrario due blocchi di diamanti ma si è un bastardo se ti prendi due blocchi di diamanti eh potersi pure vabbè però almeno è una cosa che non sprechi vabbè se ci serve ci serve fa niente va infatti è così eccola qua ok vabbè tanto comunque abbiamo è una cosa che ci serve allora no questa la mettiamo qua dove smette qua per il momento no vabbè in realtà dobbiamo fare una parte proprio ah separatamente ho capito però mo per quello che mi ricordo se tu lo rompi poi lo puoi riprendere riprende quindi lo possiamo anche in un momento in amico devi essere qui e poi volendo con l'incudine facciamo altri incantamenti quindi per da iniziare che ci serve ci incantiamo affilatezza affilatezza contro colpo ma io dico affilatezza affilatezza così afflame efficienza efficienza è buona ok così abbiamo un minimo di incantamento sulle spade sulle spade sulle spade sulle spade e poi possiamo farci anche un arco e ce lo incantiamo quindi il fatto che era meglio se ci lasciavamo un blocchetto così di chi no di io dico di io di picotino perché piccolo aneddoto su Mariano fa il parrucchiere l'avrebbe dovuto dire no Mariano risponde però noi lo anticipiamo l'abbiamo anticipato il secondo Mariano risponde perché già ce n'è uno nel canale ok arco bene potenza ok potenza sta un poco più lontano potenza salutiamo tutti gli amici di potenza che ci guardano allora prendiamo questi e schiattiamoli qua in realtà un giorno prima o poi abbiamo trovato infinito in modo che spariamo le fricce fricce infinite yes ah si può che fare un fricce l'incantamento infinito fricce fricce finite si poi non vedo che ce l'hanno 14 l'anno prossimo in modo che fosse anche la balestra ah ah beh no poi ci vuole comunque di incudinare per incudinare ok allora adesso dobbiamo fare una cosa dobbiamo vedere se ci abbiamo la sella altrimenti sono sono da fase no ma penso se non mi sbaglio la sella non si può fare vediamo un attimo sfogli che ci vediamo tra poco cerchiamo la sella avete mai pensato ma si può craftare la sella cazzo non si può craftare la sella ma come porco giuda cioè puoi craftare l'occhio del lente non puoi craftare ma puoi craftare anche cristo ma non puoi craftare una sella poi si crafta devi mettere dei blocchi di terra così è una croce di legno eccolo qua e Gesù dove sei? una croce non fa una sella porco giù e la sella poi dove si può prendere? è nether o nelle caverne quindi dovremmo andare nel portal che abbiamo costruito prima o anche nelle caverne eventualmente però nelle caverne abbiamo visto ma nei villaggi si trova e sembra nelle casse sì ma comunque penso che possiamo cioè sarebbe allontanarsi troppo per tipo 15 ore allontanamento perciò voglio prendere la sella perché andiamo un po' più veloce se quello stalker non è lento che guarda come è lontano o giù c'è guarda è lontanissimo per trovare poi mi sai che cosa? vabbè allora se ci capita però possiamo iniziare a fare una cosa noi avevamo detto che facevamo il sottotetto benissimo quindi possiamo ripulire il tetto da quella merda posso pesarci basta che ah se facciamo basta che la sfascia che per precauzione possiamo gli attrezzi non devi evitare di ciossare qualcosa che non va distrutto infatti abbiamo posato il tavolo per incandesimi che comunque ci è costato due diamanti e una cosa ah beh due diamanti e diamanti infatti ah infatti una pala e spala così capito spala la merda da sopra e spala la merda e taglio la merda dal tetto ok vabbè la freccia la mettiamo qua la qua la terra per salire là qua sono le caldi che poi sempre merda sopra merda su merda sotto allora volevo fare così così per salire più comodamente che ne pensi come abbiamo fatto per la cosa 1 2 3 ecco qua ah c'è ma che cazzo facendo lo stiamo facendo per allungare il video in 10 minuti perché non sappiamo che cazzo fare noi non stiamo facendo questo per questo solo per i soldi noi non lo facciamo no viva la sincerità vabbè ma anche per non tediarmi il stesso che ho detto che era da bello capire si è tutto troppo lontano troppo lontano si qua vicino vedi c'è stessa poco di merda c'è vicino ma staccato da terra si rovina il parcheggio si rovina il parcheggio il parcheggio il parcheggio il parcheggio per chietto e se poi devo fare altri blocchi più in là per si devo scendere ecco qua questi qua li tolgo quando non ci sia proprio un cazzo comunque si inizia a vedere che è da dentro però vabbè stavo pensando e completa sarà ancora più bella allora io sto pensando però più là non mo di cambiare le scale farle di voi di mattoni eh l'avevo messo ok farle di voi le scale di mattoni però non adesso ok c'è più là ci siamo quasi sperando che come nella scorsa puntata non si blocchi e ci dia solo l'audio no c'è proprio cazzo è così è così è così è così è così che ancora una volta si bloccò è così dove ti ho ripulito no volevo 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 invece non spalla ancora merda e tu devi spalla la merda per tutta la tua cazza che fai in mani per la spalla merda è zappo a vigna è zappo e merda io sono Mariano Pasquale e pratico è zappo e merda da fare un video come lui che gioca di spalla e se ne vuole nel pubblico sai che bellissimo ma poi lui ogni tanto si scostava è bellissimo dire infatti lui è disinvolto e tranquillo che gioca di spalla e ha rispettato se ne spatti i coglioni adesso dobbiamo fare una cosa dobbiamo fare le scale intanto il video sta altando a 10 minuti si arriva a 10 minuti a 10 ore di video se lo ha aperto in un video ma volendo qualche volta che non capitano 10 minuti ci sta perché ultimamente i video sono di 20 minuti 20 minuti c'è l'ora e mese i film che poi tra l'altro non ci vuole un cazzo a fare sti video quindi da muovere dobbiamo trovare una parte ah beh la mettiamo qua 1,2,3 una scala ah per il piano superiore giustamente però aspetta sto pensando che si a parte l'audio ah si ok ah si è una strana marina allora penso che possiamo farlo però ci serve più legno quindi ci vediamo legno legno ah beh anzi no sempre a importare il video ai 10 minuti lo farei verrete con noi godetevi da lei allora dobbiamo andare a spaccare legno senza toccare mai l'albero leggendario stavo sfasciando la porta come mio solito ah aspetta la facciamo ah non possiamo non abbiamo legna no quello è l'albero leggendario no no quello non si tocca insieme da queste parti dove sta quello l'abbiamo registrato ma non so più ancora se abbiamo cambiato il nome dell'albero quindi se vedete che non l'abbiamo cambiato è per questo ma magari questa no ti piace è più caruccio no no dico perché mora mi è costruito di così guarda che ho fatto ci ho messo vicino una bella torcia per illuminarlo illumina io penso che sta lavorando veramente adesso è Steve Steve vuole suicidarsi ah e poi comunque il fatto dell'alberello gli abbiamo mandato quel nome ma se avete un nome più simpatico suggeritelo cambiamo e vabbè magari magari sì ce ne sento se ce lo dite accettiamo suggerimenti nel caso anche Smeralda sempre porta a verte cioè porta a verte qua voglio dire porta a verte allora adesso ma che palle quando non puoi correre guardate il nostro stimo quanto è cazzuto adesso troppo cazzuto il nostro stimo il nostro bambino cresce comunque te l'ho detto ora non adesso c'è più la molto più la perché non c'è più palle di fare la piramide ah per farla nuovamente la piramide mi faici quella volta no no la piramide capisci perché sembra tipo una piramide sì sì sembra una piramide ma perché ti ricordi quando ho fatto veramente la piramide abbiamo un'esercizio però va bene non togliere che possono essere presenti in un altro video ma no ma anche no cazzo li mettiamo li mettiamo dammi il tempo che lo sblocco perché la strada si è bloccato 5 6 6 2 4 8 sì ai miei calcoli e matematici 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 su fallute e sai perché sai perché questo che mi sa ce fa in modo che ne contano ah veramente una botola col fuoco sotto quelle streghe quando entrano si infiammano si infiammano però non possiamo metterlo davanti ma sai perché se no i zombie pigiano entrano e quindi va bene così quindi questi ce li conserviamo per qualche altra costruzione futura qualche altro scopo e dobbiamo andare a prendere altra legna si è certo ragazzi a prendere la legna ma sai perché perché tutti a segare gli alberi gli alberi ok allora noi si dice che video registra cazzo registra registra no dico a lui a lui registra cazzo allora penso che dobbiamo farlo tipo dobbiamo fare un sottotetto un sottotetto oppure ci mette un bel pilastro e ci ci chiavi vicino una scala cioè tu dici anche più anche più laterale e no perché se noi lo facciamo qua poi non lo facciamo no non proprio lì sotto qua centro nasa porto no andiamo logia registra per favore registra non darmi solo audio un video di troia vai vai ma la moto su se regola lui cioè a volte c'ha voglia registra quanto te gli geni registra sennò cazzi vostri tanto il tempo l'avete perso voi a giocare a giocare così va bene siamo da taglio di porta ma che culo guarda che culo senza chi è che c'è il culo chi è che c'è il culo il fatto che dieci minuti ma io penso che ma forse abbiamo anche superati aspetta vorremmo dare un'occhiata eh sì vai diamo un'occhiata in live porca troia vabbè non abbiamo potuto vedere in live perché è stato possibile però sono quattordici minuti di video quindi voglio dire comunque la monetizzazione c'è ci sta diciamo che grazie 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 e quindi niente con uno stifo che sta tagliando la legna diciamo così qui si chiude la settima puntata di la settima settima sì la settima si la settima con Mariecraft Mariecraft qui ti spero che in questo video sia piaciuto ci vediamo alla prossima puntata alla tua puntata con uno stifo che taglierà legna ancora legna a secare al prossimo video ciao ciao